Il mondo dei derivati finanziari, un approfondimento. I derivati finanziari rappresentano uno degli strumenti più complessi e controversi all'interno del mondo delle finanze. Questi strumenti sono spesso al centro delle discussioni e dei dibattiti in quanto possono essere utilizzati sia per scopi di gestione del rischio che per scopi speculativi. In questo articolo, esploreremo cosa sono i derivati finanziari, come funzionano e quali sono le implicazioni nel mondo degli investimenti e delle finanze globali. Cos'è un derivato finanziario? Un derivato finanziario è un contratto il cui valore dipende dal valore di un altro strumento finanziario sottostante. Questo strumento sottostante può essere azioni, obbligazioni, tassi di interesse, materie prime, valute estere e altro ancora. I derivati sono progettati per consentire agli investitori di scommettere sul futuro andamento del prezzo o per proteggersi da rischi di mercato. Esistono diverse tipologie di derivati finanziari, tra cui 1. Futures e Forward Contracts. Questi contratti consentono agli investitori di impegnarsi a comprare o vendere un bene in futuro a un prezzo prefissato. 2. Opzioni. Le opzioni offrono ai titolari il diritto, ma non l'obbligo, e di comprare o vendere un bene a un prezzo specifico entro una data prestabilita. 3. Swaps. Gli swap sono contratti in cui due parti si scambiano flussi di cassa, spesso basati su tassi di interesse o valute, per un periodo di tempo concordato. Come funzionano i derivati finanziari? I derivati finanziari si basano sulla speculazione o sulla gestione del rischio. Ad esempio, un trader potrebbe acquistare un contratto future sul petrolio greggio se crede che il suo prezzo aumenterà nel tempo. Al contrario, un'azienda che esporta bene in un paese straniero potrebbe utilizzare un contratto Forward per proteggersi da fluttuazioni avverse dei tassi di cambio. Il potenziale di guadagno o perdita nei derivati è notevole, poiché le fluttuazioni dei prezzi possono amplificare gli effetti. Questo rende i derivati uno strumento ad alto rischio e ad alta ricompensa. Le implicazioni dei derivati finanziari I derivati finanziari sono stati al centro di dibattiti e controversi a causa del loro ruolo nella crisi finanziaria globale del 2008. Alcuni li vedono come strumenti che possono aumentare la stabilità dei mercati finanziari, mentre altri li ritengono responsabili dell'accentuazione delle crisi finanziarie. Le autorità di regolamentazione in tutto il mondo hanno implementato normative più rigorose per la negoziazione e la gestione dei derivati finanziari al fine di mitigare i rischi sistemici. Tuttavia, l'uso dei derivati continua a essere ampiamente diffuso nei mercati finanziari globali. In conclusione, i derivati finanziari sono uno strumento finanziario complesso con un impatto significativo sul mondo delle finanze. Possono essere utilizzati per scopi di gestione del rischio o per scopi speculativi, ma comportano un alto grado di rischio. È essenziale per gli investitori comprendere appieno il funzionamento dei derivati e valutare attentamente i rischi prima di utilizzarli nelle loro strategie di investimento. Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube. Grazie a tutti.